Festa della Polizia 2016 a Taranto, giusta la cornice e la sede e il castello aragonese allo stesso tempo storia e simbolo istituzionale di questa città, messo a disposizione dalla Marina Militare. Ci sono le massime autorità cittadine a celebrare impegno e dedizione delle donne e degli uomini che tutelano la nostra sicurezza. Il questore di Taranto, Stanislaus Schimera. La Polizia di Stato deve esserci sempre, non è solo un'istituzione ma è lo Stato e quindi lo Stato deve essere sempre presente con i cittadini e per i cittadini. Esserci sempre, dice il questore, siamo e saremo sempre presenti tra i cittadini, tra la gente e con la gente, pronti ad accoglierne la richiesta di sicurezza o il disagio, nei momenti più gravi di sofferenza o di rabbia e di tensione e nei momenti dello sconforto. Poi il questore ricorda tre momenti che racchiudono il senso dell'operare della Polizia di Stato a Taranto, le numerose operazioni di Polizia giudiziaria effettuate dagli apparati investigativi, tra cui l'immediato arresto degli autori dell'omicidio Axo, il quotidiano lavoro della squadra volante in perenne servizio di controllo del territorio, il continuo impegno di quanti ogni giorno affrontano le attività di accoglienza dei cittadini extracomunitari, popoli tristemente toccati dal fenomeno dell'immigrazione forzosa dai luoghi di miseria e guerra. Poi il momento della premiazione e delle onoreficenze, la promozione per merito straordinario concessa a Marangi Fuvit Antonia, a Pietro Carbotti, a Lorenzo Candio, a Salvatore Gentile, ad Arcangelo Masiello, a Marco Petriello, a Daniela Scudella e ancora a Pierpaolo Colella, a Nicola Passaseo, a Salvatore Bartolomeo, a Roberto Maggio, a Maria Pedone, a Raffaele Castellano, a Massimo Colosi, Michele Donatelli, Anna Maria Galeone, Nicola Baccaro e Rosaria Morelli, donne e uomini che interpretano fino in fondo il proprio dovere, dando sicurezza ai cittadini. Certo, siamo preoccupati per il recentissimo e ferrato omicidio a Rione Tamburi, ma tutti siamo certi, e lo vediamo, che lo Stato è presente, con le forze dell'Ordine, con la Magistratura, a preservare democrazia e sicurezza. Le parole del Questore, che ringrazia anche l'operato della stampa. Grazie agli organi di stampa che ci stanno accompagnando e che ogni giorno hanno sempre un occhio benevolo nei nostri riguardi. È importante che anche l'opinione pubblica capisca il sacrificio che giorno per giorno noi facciamo e grazie a questi amici, e lo sottolineo, amici con la maiuscola, riusciamo ad entrare nelle case di tutti. Il nostro quotidiano operativo, ha detto tra l'altro il Questore nel suo intervento, ci ha resi orgogliosi del lavoro svolto. E in tale contesto, sottolinea il Questore, l'efficace e azione di contrasto e l'impegno sul fronte della prevenzione, evidenziata da un forte decremento dei reati commessi in questa provincia rispetto all'anno precedente, ci è valso il riconoscimento di città e provincia più sicura di Puglia, classifica stilata da uno dei più prestigiosi organi di stampa internazionali, il Sole 24 Ore.